La conferenza di fine anno al San Bassiano è stata l'occasione per chiedere risposte al direttore generale Carlo Bramezza in merito all'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame che ha smontato mattone su mattone l'intero impianto accusatorio costruito sulla vicenda dell'Ulss 7 Pedemontana e del suo DG. Domande come quelle sul buco da 11 milioni di euro e sull'opportunità che a una persona in questa situazione venisse affidata alla gestione di un'azienda sanitaria che i giudici hanno ritenuto non prive di interesse pubblico. Ebbene, adesso che anche la giustizia ha stabilito che quelle tre domande erano di fatto opportune e non un fatto privato, sentite cosa risponde il DG Bramezza. Io non ho intenzione a rispondere nel senso che c'è una vicenda giudiziaria aperta e per chi non si concluderà non rilascia nessuna dichiarazione. Le faccio notare che con l'indagine in corso lei ha rilasciato diverse interviste ad altre testate giornalistiche. Le abbiamo lette, le abbiamo viste. Quello che hai letto tu? Comunque, su questo argomento qua lei non risponde. No. Eppure, eccole qui. Una lunga serie di dichiarazioni virgolettate del DG Bramezza rilasciate a commento dell'indagine a diversi organi di informazione. Dunque, la scelta di non rispondere alle nostre domande rimane appunto una scelta del diretto interessato in contrasto con quanto fatto finora verso altri organi di stampa. Nel ribadire poi che, sempre facendo fede al pronunciamento dei giudici del Tribunale di Venezia, i servizi televisivi di Rete Veneta sulla gestione Bramezza non sono stati considerati in alcun modo diffamatori, abbiamo ricordato al DG che esattamente un anno fa la nostra troupe veniva cacciata da una conferenza stampa a cui tutti i giornalisti erano invitati. Una condotta, quella di Bramezza, stigmatizzata dai giudici che hanno ravvisato in questo una violazione della libertà di stampa. E in questo caso, dal DG arrivano le scuse a Rete Veneta anche se la sua ricostruzione dei fatti è stata apertamente contestata. Ricordo benissimo perché sei venuto tu nel mio ufficio con cui tra l'altro ho sempre avuto un ottimo rapporto e quando sei entrato nel mio ufficio e mi hai detto è pronto direttore che le facciamo un altro servizetto sai, anch'io sono una persona, ho sbagliato, ma sono una persona e per quello ti ho chiesto di uscire quella volta. Lei si prende la responsabilità, insomma, di quello che dice. Il servizetto non è vero, da parte i miei vocabolari. Vabbè, io ho sbagliato a mandarti via, potevo anche rimanere. Insomma, scuse che arrivano a distanza di un anno e dopo il pronunciamento della giustizia. Verrebbe da dire meglio tardi che mai, ma gli interrogativi che restano in evasi sono sempre tanti, troppi. Sono quelli di migliaia di famiglie, di segnalazioni e di pazienti che aspettano, loro sì, risposte concrete da parte della sanità locale.